Ho sentito da salutare il pubblico, sovrentino amalfitano e lo ha contati perché questa è una giornata campale, importante, anche senza fare sensazionalismi. Allora a Pompei, in Campania, ogni giorno è sempre una gioia venire qua ogni mattina, aprire il sito quando piove, quando c'è il sole, è sempre un'emozione. Ma oggi in maniera particolare perché abbiamo due eventi, abbiamo un gruppo dalla Serbia che sono venuti qua per studiare noi, nel Colano, Pompei, anche gli altri siti o Pronti, Stabia, Lettere, Museo di Crisi Sana, per capire quali sono le best practices che vogliono poi analizzare e portare a casa per valorizzare il loro sito. E questo ovviamente da un lato ci rende orgoglioso, ma anche un'importante occasione per discutere, scambiarsi qualche idea con questi colleghi, per capire anche noi quali sono i punti di forza e dove possiamo ancora migliorare. Poi abbiamo oggi l'inaugurazione di due complessi eccezionali, la casa di Oscuri, che è la villa di Dionele, dove ovviamente saranno presenti anche i nostri colleghi e colleghe dalla Serbia, dove anche questa è una grande emozione. Grazie, i nostri auguri ai nostri convivimenti.